Il caso gli occupanti dell'ex OVS terroristi? Il procuratore non mi riferivo all'eversione. Cronaca insegue, fino in questura e tenta di aggredire l'ex moglie davanti ai poliziotti, arrestato per stalking. Lavori pubblici, la stazione unica degli appalti diventa realtà, la pista di Martinsicuro, il primo atto. Teatro comunale pronto, il bando per la gestione, l'attività non subirà interruzioni. Giubileo, Madonna delle Grazie, Sant'Anna e il Duomo saranno le tappe teramane per i pellegrini. E per lo sport calcio sale l'attesa per il derby, l'Aquila-Teramo. Vivarini dice fare risultato ad ogni costo. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Gli occupanti dell'ex OVS terroristi, giusto il tempo per l'agenzia ANSA a dibattere la dichiarazione e apriti cielo. Teramo torna a parlare di quel blitz artistico insurrezionale del quale è saltato l'esordio processuale per un difetto di notifiche. Presto tornerà in aula, ma sotto una luce diversa. A fare l'accostamento tra l'episodio e l'eversione il procuratore capo di Teramo, Antonio Guerriero, a margine della firma del protocollo d'intesa tra la direzione nazionale antimafia e le procure abruzzesi in vista del giubileo. Quel suo, l'Abruzzo non è immune dal fenomeno del terrorismo eversivo, stiamo per celebrare a Teramo un importante processo a un gruppo che occupò un supermercato, ha trasformato tutti quelli che al di là della serranda o lungo il corso dinanzi all'ex grande magazzino a Teramo portarono la propria solidarietà all'iniziativa in terroristi addirittura. Nulla di tutto questo, non inneschiamo polemiche che non hanno motivo di essere asseccamente dichiarato il procuratore capo guerriero. Ribadisco che in Abruzzo non dobbiamo sottovalutare il fenomeno eversivo perché c'è anche nella nostra regione. Ma poi parlando di proteste di piazza che assumono a volte la forma dell'eclatanza e la grande risonanza mediatica, ho fatto l'esempio dell'occupazione del supermercato, del quale a breve celebreremo il processo, ha aggiunto guerriero. Ed altronde la contestazione che muoviamo contro gli indagati è chiara e nota. Riabilitazione postuma? Non ho mai accostato questo episodio, ha detto ancora guerriero, alle versioni di destra o di sinistra o che dir si voglia, ha tranciato così il procuratore capo. Cambiamo argomento. È la convenzione tra la provincia di Teramo e il comune di Martinsicuro, il primo accordo firmato dopo l'istituzione della stazione unica appaltante. Con la convenzione odierna il comune di Martinsicuro affida alla provincia di Teramo l'iter burocratico della gara d'appalto per la realizzazione della pista ciclabile. Il servizio. L'amministrazione provinciale di Teramo ha istituito la stazione unica appaltante. Di che si tratta? È una delle funzioni che la legge del Rio ha assegnato alle nuove province, cioè quella di fungere da stazione di gara per tutte le procedure concorsuali e tutte le procedure di gara che i vari comuni debbono anzi porre in essere. Oggi stipuliamo per esempio la prima convenzione con un comune importante, tra l'altro con il comune di Martinsicuro, il quale ci affida tutte le operazioni di gara per la realizzazione di un'opera pubblica. Dunque in che modo la provincia aiuta questi comuni? Mettendo a disposizione il bagaglio di grandi competenze e risorse umane che sono presenti in provincia, noi abbiamo un ufficio gare che soltanto nell'ultimo anno ha predisposto una cinquantina di gare ad un ritmo veramente serrato, diamo un servizio ai comuni perché sgraviamo i loro uffici di queste procedure e soprattutto le facciamo in tempi rapidi, con certezza e sulla base di meccanismi rodati e collaudati. In questo caso attraverso la provincia, il comune di Martinsicuro, ci affida la possibilità di fare una serie di procedure. In particolare una in questo momento è urgente perché ha una scadenza al 31 dicembre del 2015. L'appalto urgente è quello per la pista ciclabile? Assolutamente, noi oggi ratifichiamo questa convenzione per l'istituzione della CUA, la commissione unica appaltante, abbiamo creduto fin da subito nelle strutture provinciali e oggi abbiamo anche consegnato quel progetto definitivo esecutivo che integreremo con tutti i documenti nel corso della giornata per cui siamo soddisfatti di questa nuova sinergia che si è creata e che andremo a ratificare perché l'abbiamo vista, verificata e approvata in Consiglio Comunale il 4 giugno. Riteniamo sia un passaggio importante e con questa gara che dovrà vedere la luce nei prossimi giorni sicuramente sarà un ottimo inizio di collaborazione tra il comune di Martinsicuro e la provincia di Teramo. La cronaca ha tentato di picchiare la ex convivente anche in questura a Teramo dove la donna si era recata per sporgere l'ennesima denuncia per le vessazioni e le minacce di cui quotidianamente era fatta oggetto. L'intervento degli agenti della Polizia di Stato di Teramo hanno permesso di arrestare l'uomo, un 43enne teramano, adesso in cella con l'accusa di stalking. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la donna, una 40enne teramana, si era presentata negli uffici di Via Lebovio intimorita dai numerosi messaggi telefonici minacciosi che l'uomo le aveva inviato. Ma appena uscita a poca distanza ha incontrato di nuovo l'ex marito e nel tentativo di sottrarsi alla furia dell'uomo ha cercato rifugio all'interno della questura. L'uomo non si è fermato nemmeno alla vista dei poliziotti che hanno dovuto bloccarlo mentre tentava di aggredire la ex convivente. È stato arrestato e posto a disposizione del magistrato. Ancora la cronaca, un altro caso di violenza in famiglia ha visto il suo epilogo a Castellalto. I carabinieri della stazione di Castelnuovo hanno infatti arrestato per maltrattamenti un albanese di 56 anni. L'uomo è accusato di aver minacciato e usato violenza sulla moglie connazionale 34enne e sulla figlia minorenne da quasi un anno per futili motivi. Stanca di subire le continue angherie, qualche mese fa la donna ha trovato la forza di presentare una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini coordinate dalla procura teramana. Il GIP di Teramo ha poi accolto la richiesta del PM firmando un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti dell'albanese. E indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di controguerra per chiarire i motivi alla base dell'attentato incendiario messo a segno la scorsa notte verso le 4 contro il bar Audax situato lungo la strada provinciale numero 1 Bonifica del Tronto nel territorio di controguerra. I gnoti dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso hanno gettato una sorta di molotov che ha ingegniato gli arredi. L'intervento dei vigili del fuoco di Nereto ha limitato i danni alla struttura che rischiava di andare distrutta. Il pubblico esercizio è stato nel mirino di un attentato analogo qualche mese fa ma la titolare, una donna di Ancarano, non ha riferito di alcuna pressione o minaccia che potesse far prevedere una ritorsione del genere. Incontro tra Comuni e Amministrazione Provinciale questa mattina nella sede di Via Miglia a Teramo per stabilire tempi certi per ottenere i pareri della sovrintendenza in vista dei lavori edili su edifici pubblici e privati. Spesso infatti i Comuni denunciano i problemi di rapporti con la sovrintendenza. Ascoltiamo il consigliere provinciale delegato Maurizio Verna. Avere tempi certi nell'ottenere i pareri della sovrintendenza per realizzare i lavori edili è la richiesta che inoltrerà la provincia alla Regione Abruzzo dopo aver ascoltato le esigenze di tutti i Comuni del Teramano che denunciano problemi di rapporti con la stessa sovrintendenza. Sì, abbiamo iniziato questo incontro con i Comuni che hanno seri problemi con i rapporti con la sovrintendenza dei beni ambientali dell'Aquila perché su richieste di pareri fatti dai cittadini, passando per i Comuni, generalmente sono dei tempi indefiniti a volte senza una precisa tempistica appunto. In che modo snellirli? Adesso noi abbiamo raccolto le indicazioni da parte delle amministrazioni comunali di questo faremo un documento e chiederemo alla Regione Abruzzo di farsene carico direttamente attraverso ovviamente il Ministero o altre strade che lo stesso Governatore vorrà utilizzare. I tempi medi quali sono? Sono indefiniti appunto, questa è la problematica che c'è oggi sul territorio provinciale. I vari sindaci hanno riferito che una domanda viene presentata e poi non si sa chi ce l'ha, se è protocollata, se qualcuno l'ha firmata. Non può essere che per una pratica amministrazioni, sindaci, amministratori e tecnici debbano poi chiamare 15-20 volte gli uffici per cercare di capire che fine ha fatto una pratica importante per il territorio sia da una piccola che una grande costruzione e questo sappiamo che poi blocca ovviamente tutto il procedimento di dizio che noi abbiamo da un piccolo comune ma anche i comuni più grandi e quelli sulla costa in modo particolare. Le attività del teatro comunale di Teramo non subiranno interruzioni, così il sindaco Brucchi ha replicato alle polemiche sollevate dal capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Teramo d'Alberto che ha accusato la giunta comunale di ritardi sul nuovo bando per l'affidamento in concessione. Il primo cittadino teramano spiega che il bando verrà pubblicato la prossima settimana e che in assenza di proponenti l'ente ha facoltà di prorogare l'attuale gestione del cineteatro comunale. Sentiamo. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana verrà pubblicato il bando per l'affidamento in gestione del cineteatro comunale. Sì, uno dei tantissimi bandi che stiamo portando avanti per le esternalizzazioni dei servizi. Vorrei ricordare che ne abbiamo aggiudicati già 4 su 5 per quanto riguarda gli impianti sportivi. Adesso ci accingiamo a fare quello del cineteatro. Un bando importante perché noi vogliamo che il cineteatro comunale continui a vivere così come è stato in questi anni. Come cineteatro o solo come teatro? Come cineteatro. Poi è chiaro che ci rimettiamo anche l'offerta del territorio in un momento particolarmente difficile. In questi anni abbiamo anche investito diversi soldi. Abbiamo finalmente risolto anche il problema del CPI che ci ricordiamo qualche anno fa ci ha impedito l'apertura durante il periodo natalizio del cineteatro. Però devo dire che questo bando verrà pubblicato la prossima settimana. speriamo che ci siano proposte e se anche ci dovesse essere una qualche piccola proroga, così tra l'altro come prevede la legge, credo che non ci sia nulla di strano. La cosa importante è che si riesca a garantire la fruibilità del cineteatro comunale. L'opposizione vi ha accusato di portare un colpevole ritardo sulla questione? Io non ricordo a memoria mia da quando faccio l'amministratore una volta che l'opposizione ha fatto un plauso all'amministrazione. Qualche volta bisogna fare anche un plauso all'amministrazione. Sicuramente si è creato un imbuto all'ufficio contratti che abbiamo anche rafforzato con del personale. Ma i bandi che stiamo portando avanti sono davvero tanti. Stiamo concludendo tutti i PISU perché il 31-12 c'è la scadenza e anzi la prossima settimana approfitto per dire che il 17 sarà a Teramo il Presidente D'Alfonso per un incontro proprio finalizzato ai finanziamenti dei PISU e dei PAC, proprio in un'ottica di collaborazione che c'è tra il Comune, la Regione e il territorio. Che voglio sottolineare perché bisogna anche riconoscere questo quando questo accade. Per cui davvero, pensiamo alle cose importanti, il cilatero comunale funziona e continuerà a funzionare fino all'arrivo del nuovo gestore. Se ci sarà, ripeto, qualche giorno di proroga non ci vedo nulla di strano. Il consigliere comunale d'opposizione Paola Cardelli denuncia il comportamento del Comune di Teramo che affitterebbe a prezzi troppo bassi locali commerciali di proprietà. Inoltre sostiene che vi siano associazioni agevolate da prezzi più bassi dei canoni e utenze e altre svantaggiate in tal senso. Sentiamo. Secondo il consigliere comunale di opposizione Paola Cardelli il Comune darebbe in affitto sui locali a prezzi troppo bassi. È così? Sì, non è poi secondo me perché con un precedente accesso agli atti ho avuto una risposta parziale sui locali commerciali di proprietà comunale dati in affitto. E i prezzi sono veramente ridicolmente bassi rispetto ai prezzi di mercato, i prezzi stabiliti dall'osservatorio del mercato nazionale dell'agenzia delle entrate. E quindi ho chiesto di conoscere, oltre a questi, i contratti che sono stati stipulati. E siccome a questo punto si potrebbe trattare di un beneficio, di un vantaggio economico attribuito, si dovrebbe anche capire quali siano stati i criteri per attribuire questo vantaggio. Perché a un determinato privato sì e ad un altro no. Poi ho anche chiesto che, come lo statuto prevede, il Comune di Temo dovrebbe dotarsi di un albo delle associazioni. Qui non abbiamo neanche l'albo delle associazioni, non sappiamo neanche le associazioni. Alcune godono di alcuni vantaggi economici tipo sede, utenze o altro. E altre invece non godono di nulla e si devono arrangiare. Lei chiede in sostanza una regolamentazione? No, la regolamentazione c'è e la legge c'è, chiedo il rispetto della legge, perché comunque anche per la legge c'è un decreto del 2012, mi sembra. Proprio parlava che dove si annida maggiormente la corruzione è proprio nell'attribuzione dei vantaggi, dei sussidi, eccetera, eccetera. Nella sua interrogazione poi ha chiesto anche chiarimenti in merito ai rifiuti che sono stipati, insomma, in quella che era la fornace della Cona, del quartiere Cona. Sì, nell'area dell'ex fornace sembra che vi sia una notevole quantità di amianto e noi sappiamo che l'amianto è di Eternit. Anche la ASL ha fatto un sopralluogo e ha dato disposizione a che vengano rimossi, ma a mio avviso il principale responsabile di tutto è il comune, che anche per legge dovrebbe provvedere in autonomia e poi eventualmente rifarsi sul privato in adempiente. E così anche sempre nella Cona vi è un'altra zona, quella della ex stazione del bus, dove anche lì vi sono una serie di materiali inerti già da tempo, che non sono stati mai rimossi e che oltretutto adesso è diventata una specie di scarica abusiva dove la gente va a buttare nottetempo e tutto quello che gli viene in mente. Soddisfatta delle risposte? Assolutamente no. L'Istituto Braga ha ufficializzato l'insediamento dei corsi musicali presso la nuova sede didattica dell'Istituto Comi in Viale Bovio a Teramo. La pratica è stata formalizzata tra il presidente della provincia di Sabatino e il presidente del Braga Valente. Tutte le componenti del Braga esprimono gratitudine alla provincia di Teramo per la sensibilità mostrata in questo particolare momento di rinascita. Nei prossimi giorni prosegue la nota dell'Istituto Statale Superiore di Studi Musicali. Sarà ufficializzato il corpo dei docenti che sta prendendo servizio presso la nuova sede, in maniera tale da consentire un'eccellente prosecuzione didattica del glorioso istituto musicale a servizio del territorio da oltre 120 anni. Su dove realizzare la nuova caserma dei carabinieri? I consiglieri del Partito Democratico di Giulianova tirano dritti per la loro strada in disaccordo con il sindaco Mastromauro, in un braccio di ferro tutto in famiglia. In una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale chiederanno di votare per scegliere l'area comunale del quartiere annunziata o in alternativa per l'ex tribunale. Sentiamo. Il gruppo consigliare del Partito Democratico Giuliese continua a pensarla diversamente dal sindaco Mastromauro, in merito al luogo in cui realizzare la nuova caserma dei carabinieri. Saranno anche le diverse vedute in merito al rimpasto di giunta, ma quello che va in scena da qualche mese è ormai più di un braccio di ferro tra Mastromauro e i consiglieri del suo partito. I consiglieri comunali del PD di Giulianova, in un atto di impegno da votare come mozione in Consiglio Comunale, ribadiscono la loro posizione nell'individuare nel quartiere annunziata il luogo ideale dove costruire la nuova caserma dei carabinieri, in subordine ristrutturando parte dell'ex tribunale. Sulla questione il PD di Giulianova ha aperto una riflessione politico-amministrativa dalla quale è emersa la volontà, si legge nella mozione, di preservare l'area dell'ex mercato coperto e la piazza contigua, procedendo alla loro riqualificazione mediante il reperimento di risorse attraverso bandi comunitari o nazionali, e nel contempo di valutare siti alternativi idonei all'insediamento della nuova caserma dei carabinieri, dando priorità al sito del quartiere annunziata e in alternativa allo stabile dell'ex tribunale di via Cerulli. I consiglieri del PD giuliese, il capogruppo Federica Vasanella, Gabriele Filipponi, Valerio Roscia, Dalberta Chiodi ricordano, e non solo al sindaco evidentemente, che tale ipotesi prevede la realizzazione di un nuovo manufatto su un'area di proprietà comunale di circa 2.600 metri quadri attigua agli alloggi di servizio destinati ai carabinieri di Giulianova. La realizzazione può essere effettuata utilizzando il cosiddetto contratto di disponibilità. In alternativa per i consiglieri comunali del PD di Giulianova c'è l'immobile dell'ex tribunale di proprietà comunale. Le opere potranno essere realizzate o da parte dell'ente stesso o previo conferimento dell'immobile stesso alla società in house Giulianova Patrimonio. Con questa mozione i consiglieri comunali del PD intendono chiedere al Consiglio comunale di impegnare la Giunta a valutare unicamente queste due soluzioni per la realizzazione della nuova caserma della compagnia dei carabinieri di Giulianova. Una precisazione della provincia di Teramo. In riferimento alle notizie riguardanti un esposto anonimo di un funzionario regionale sulle gare d'appalto relative a opere realizzate con i fondi comunitari e nel caso che riguarderebbe la provincia di Teramo sulla gara per la realizzazione del nuovo ponte sul Vomano fra Castellalto e Cellino si fa presente che l'ente dal 1999 non ha commissioni di gara con componenti esterni e anche in questo caso la commissione sarà composta esclusivamente da componenti interni. Incarico prestigioso e di respiro europeo per la vicepresidente del gruppo Baltour Antonella Ballone. Il servizio. La vicepresidente del gruppo Baltour Antonella Ballone è la prima donna in Europa ad entrare nell'esecutivo della Eurolines Organization un organo decisionale della Eurolines che riunisce i membri delle varie nazioni europee in un unico network. Questo vuol dire non solo che una donna eteramana è riuscita a raggiungere vertici importanti ma anche che il gruppo Baltour è un gruppo che ormai si impone a livello nazionale e direi anche mondiale. Sì effettivamente è così. Io sono molto contenta di questa nomina sicuramente a livello personale ma soprattutto a livello di gruppo Baltour perché effettivamente è proprio il segnale, il riconoscimento che la nostra azienda effettivamente a livello nazionale e soprattutto in questo caso internazionale si è ritagliata a uno spazio importante. Far parte dell'esecutivo dell'Eurolines è molto importante soprattutto in un momento in cui c'è una vera e propria liberalizzazione dei trasporti e quindi le strategie che dobbiamo mettere in atto per combattere la concorrenza sono importanti e quindi per me questo ruolo è ulteriormente una responsabilità che comunque prendo con serenità sapendo che insomma un briciolo di qualche ingrediente interessante lo possiamo mettere. Probabilmente anche grazie a questo incarico Baltour, fermo restando che lo è già adesso, diventerà leader anche nel trasporto europeo. Beh di fatto noi con la nostra azienda e con l'Eurolines al momento siamo tutto sommato leader a livello europeo perché prima ricordare che l'Eurolines collega tutti i giorni 23 paesi europei quindi in assoluto ora siamo i primi in Europa per trasporto passeggeri anche in Europa però ecco ovviamente c'è uno scenario differente rispetto a qualche anno fa e quindi per tenere stretta questo primato bisogna lavorare. In Abruzzo sono 1.400 gli insegnanti assunti con il piano straordinario di stabilizzazione previsto dalla buona scuola. La soddisfazione del segretario del Partito Democratico abruzzese Marco Rapino e di Matteo Bonfante responsabile scuola PD Abruzzo. Vediamo. Grazie alla buona scuola 1.400 insegnanti abruzzesi dicono addio all'infinita e travagliata esperienza del precariato e lo fanno nel migliore dei modi con un'assunzione a tempo indeterminato. Commenta così Matteo Bonfante i dati circolati ieri in merito alle nuove assunzioni nel settore scolastico. Si chiude una fase che per anni ha visto lo sviluppo della scuola e dei suoi protagonisti. Si cambia impostazione. Grazie all'immissione e ruolo di tanti docenti sarà finalmente possibile creare un'adeguata e completa offerta formativa continuo e responsabile scuola PD Abruzzo. Ancora una volta il governo e il PD si mostrano in prima linea nella battaglia al precariato. Non si tratta solo di numeri. Da adesso migliaia di persone potranno vivere con maggiore serenità. Questo più che un merito della politica è il giusto riconoscimento nei confronti degli insegnanti. Il Partito Democratico ha dichiarato guerra al precariato e attraverso le riforme messe in campo sta vincendo questa battaglia. Non stiamo parlando di una battaglia politica ma parliamo di una battaglia generazionale e sociale, afferma Marco Rapino. Oggi le polemiche stanno a zero. Quello che conta sono i risultati e non parliamo solo di risultati numerici. Nonostante 1.400 sia un numero notevole, parliamo di aver restituito la giusta dignità e il ruolo legittimo a quel luogo che ha formato le donne e gli uomini di oggi e che formerà le donne e gli uomini di domani. Quali risposte alla crisi economica e sociale? A questa domanda tenterà di fornire alcune risposte il Movimento 5 Stelle di Teramo che nel corso di un convegno organizzato per domani alle 18 all'Hotel Abruzzi. Durante il dibattito verrà chiarito come accedere al microcredito promosso dal Movimento Pentastellato e come muoversi all'interno della burocrazia. Successivamente avvocati ed esperti nel settore illustreranno le questioni del contrasto all'usura e anatocismo, soffermandosi in particolare su come riconoscere i vizi all'interno dei contratti bancari. Tali questioni, ha spiegato in una nota il consigliere comunale dei 5 Stelle Fabio Berardini, sono di particolare rilevanza per gli operatori commerciali che si trovano quotidianamente vittime di indebiti bancari e il convegno potrà fornire tutte le delucidazioni in materia. In conclusione interverrà anche l'On. Daniele Pesco, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Finanze. Anche grazie all'attenzione focalizzata sulle problematiche della viabilità nell'ambito della festa della Castagna di Senarica, l'ANAS e la provincia hanno iniziato a lavorare per la sicurezza e la viabilità delle zone montane e terramane. Il servizio. In occasione della festa della Castagna di Senarica si è dato ampio spazio ad un grande problema che riguarda soprattutto l'entroterra terramano, ovvero la viabilità, la sicurezza, la percorribilità delle strade. Cosa è successo dopo quella due giorni? Ma come dico sempre, quando si creano queste opportunità, questi momenti di riflessione, poi è ovvio che da lì scaturiscono azioni. Noi abbiamo parlato delle infrastrutture, della pericolosità aviaria insieme all'ANAS, alla regione, insieme alla provincia e già a distanza di poco più di un mese, insomma, si vedono i primi risultati. Se oggi andiamo sulla 80, vediamo il rifacimento di tutto il tappetino stradale, la messa in sicurezza della Galleria di Piecanini, insomma, tutti ricordano gli spiacevoli inconvenienti che sono accaduti, quindi la pavimentazione che verrà rifatta, l'illuminazione, la messa in sicurezza di quei versanti che si erano, come devo dire, smottati durante le varie e ripetute alluvioni. Quindi dico che questi laboratori hanno una loro, diciamo, continuità. L'ANAS sta facendo delle ottime lavorazioni su tutta la 80, la provincia si sta adoperando per bonificare quelle situazioni, diciamo, più gravi. Ovviamente conosciamo la situazione della provincia, ma il presidente Renzi, insieme al suo assessore Scarpantone, insomma, sta dando ampio spazio e respiro a queste zone interne. In conclusione dico che quando c'è azione, quando c'è riflessione, arrivano anche risultati. Il Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo, l'antica cattedrale di Sant'Anna e il Duomo, sono le tre chiese attorno alle quali il Comune Teramano sta costruendo percorsi artistici e culturali da poter offrire ai pellegrini in occasione del Giubileo. Vediamo. Il Comune di Teramo per il Giubileo aderisce al Cammino del Perdono. Sì, abbiamo deciso di aderire a questo percorso importante, grazie alla collaborazione del Movimento Celestiniano dell'Aquila. Il Comune di Teramo farà da capofila per gli altri comuni della provincia di Teramo nell'organizzare tutta una serie di attività e di iniziative da contestualizzare nel Giubileo. Noi riteniamo che sia importante esserci, soprattutto in questo momento particolare. Il Giubileo è una grande opportunità per il nostro territorio, per i pellegrini e per potergli dare la possibilità di visitare le nostre bellezze. Insieme al Vice Sindaco e al Vescovo di Teramo abbiamo individuato delle zone da poter proporre, pellegrini sulle quali costruire un percorso. Quali quelle principali? Allora, sono il Santuario di Madonna delle Grazie, l'Antica Cattedrale e il Duomo. Attorno a queste tre chiese il Comune sta costruendo dei percorsi turistici e culturali da poter offrire al pellegrino nel momento in cui sarà ospite presso di noi. È arrivata una nota dell'Associazione Culturale Teramo Nostra in merito alla prima notizia che abbiamo dato. Oggi abbiamo parlato delle dichiarazioni del procuratore guerriero, il procuratore capo di Teramo, che pare avesse definito terroristi gli occupanti dell'ex OVS a Teramo. Poi oggi c'è stata una precisazione dello stesso procuratore che ha detto nulla di tutto questo. Non inneschiamo polemiche che non hanno motivo di essere. Però leggiamo comunque la dichiarazione dell'Associazione Culturale Teramo Nostra che esprime solidarietà al gruppo di giovani artisti del nuovo Teatro Teramo che in una città cronicamente carente di spazi culturali quale Teramo occuparono in buona fede i locali dell'ex OVS per iniziative di carattere artistico dedicate anche ai bambini. Quella occupazione mascherata di mecenatismo fu possibile grazie all'allegra concessione che il Comune fece di uno spazio pubblico ad un imprenditore privato mentre oggi si tacciano addirittura, si legge poi nel proseguo della nota, di terrorismo ed eversione giovani inermi e impotenti in cerca anch'essi di uno spazio pubblico per le loro e più oneste esigenze. Ha precisato poi il procuratore che ha detto che non si tratta di terrorismo e di eversione. Comunque c'è la solidarietà pronta di Teramo Nostra a quelli che occuparono i locali dell'ex OVS. Restiamo a Teramo, inutili gli appelli alla civiltà dei padroni, adesso ci si rivolge direttamente ai cani con un provocatorio appello che qualche residente di Corso Porta Romana a Teramo ha rivolto sui manifesti che da qualche giorno sono affissi lungo la via, li vedete. Ironicamente sui cartelli che compaiono ai pali della segnaletica e sui cestini dei rifiuti si legge in assenza di educazione dei padroni, signori cani sono pregati di raccogliere i propri escrementi. A nulla evidentemente vale l'ordinanza con cui il Comune di Teramo intima i proprietari a pulire i bisogni dei cani. La sanzione di 150 euro applicabile ai trasgressori non scoraggia un antipatico malcostume su cui comunque i cittadini che tengono al decoro urbano tengono alta l'attenzione con iniziative provocatorie e, si spera, forse più efficaci. Dopo il grande successo riscosso nei primi concerti della 22esima stagione concertistica, l'ampio progetto sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali musicalmente 2015 e delle attività culturali della Fondazione Terca si dedicherà un'intera giornata alle nuove eleve, ce lo fa sapere l'orchestra Benedetto Marcello. Sabato, domani alle 17.30, presso l'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo, l'appuntamento è con Orchestra Volontà, un concerto per i giovani e con i giovani. Il concerto ad ingresso libero è organizzato in collaborazione con le scuole medie ad indirizzo musicale della città di Teramo, da Alessandro e Zippilli, ed è patrocinato dall'Università degli Studi di Teramo che ha concesso appunto l'aula magna. Affiancati e seguiti dai musicisti della Benedetto Marcello, i protagonisti dell'evento saranno più di 50 giovani esecutori, studenti di strumento delle due scuole, che avranno la possibilità di approfondire le proprie competenze e l'esperienza della pratica musicale ampliando il repertorio della pratica orchestrale e professionale. Verrà inaugurata domani alle 17.30 nella Pinacoteca Civica di Teramo la mostra La Luce e l'Ombra, una vita per la pittura, del maestro Gigino Falconi. Il servizio. La Pinacoteca Civica di Teramo ospita la mostra antologica di Gigino Falconi, La Luce e l'Ombra, una vita per la pittura, curata da Giuseppe Bacci e Paola Di Felice. Da domani si potranno ammirare con ingresso libero una ottantina di opere, alcune create appositamente per l'occasione della produzione pittorica dell'artista avruzzese, che da anni impronta la sua ricerca artistica sullo studio realistico della figura femminile e su quello delle vedute di paesaggi evocativi, mediante una tecnica che guarda ai grandi maestri del passato. Sono 80 pezzi scelti proprio per questo avvenimento, che è stato un po' richiesto da alcuni anni, per cui ho lavorato anche con una certa intensità. Questa mostra puntualizza a conclusione dei suoi 60 anni di pittura, principiata ad Atlanta lo scorso anno, proseguita a Padova e poi rientra a concludere qui a Teramo, sua città natale, e propone le ultime sue opere di grande respiro internazionale, che poi vedremo nel proseguo della mostra. Con Giggino Falconi completiamo il ciclo delle mostre dedicate a Teramani, quindi in fondo all'arte abruzzese, che ha avuto caratteristiche di internazionalizzazione, perché si è diffusa in tutto il mondo, e soprattutto perché crediamo tantissimo nella creatività dell'Abruzzo e dei suoi artisti, quindi con lui codiamo il ciclo relativo al mondo creativo tra 8 e 900, e molto altro sarà da ritrovare, da rinverdire, perché la creatività non è mai esaltata abbastanza. L'inaugurazione è domani alle 17 in Pinacoteca. Sì, domani sera inauguriamo la mostra di Giggino Falconi, un artista a noi molto caro, un artista importante che ha dato tanto per la nostra città, e che abbiamo deciso di omaggiare con questa iniziativa di carattere straordinario, che ci sarà fino al mese di gennaio, e invitiamo tutta la cittadinanza a venire, perché si tratta veramente di un lavoro costruito nel tempo, un lavoro corposo importante, ma soprattutto di qualità. Quindi continuiamo in questo percorso, e volevo cogliere anche l'occasione per ringraziare il maestro, che lavora tanto e che ci dà anche questa opportunità. Si parlerà di migranti nella puntata di questa sera di App, il settimanale di approfondimento di Teleponte, condotto dal nostro direttore Roberto Almonti. In studio con gli ospiti si cercherà di scattare una fotografia dell'attuazione del programma di accoglienza, dell'integrazione, dei problemi connessi all'arrivo di centinaia di extracomunitari e della sicurezza. Sarà possibile interagire con la trasmissione attraverso i messaggi sms. Non perdete dunque l'appuntamento di questa sera con App, in diretta alle 21 su questi schermi. Adesso prima della pagina sportiva andiamo a scoprire insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani con Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo Al mattino poco nuvoloso sui settori culinari e montani, poco nuvoloso sui settori litoranei. Nel pomeriggio sereno sui settori costiari e lungo la dorsale appenninica, sereno sui settori subappenninici. Tra sera e notte parzialmente nuvoloso sui settori interni e surilievi, poco nuvoloso sui settori marittimi, temperature lieve diminuzione, massime compresse tra 18 e 21 gradi nelle conche aquilane marsicane, tra 21 e 24 gradi sulle pianure adriatiche, venti deboli nord-occidentali, mari calmi o quasi calmi, in provincia di Teramo al mattino moderatamente nuvoloso sulle zone montane, poco nuvoloso sulle zone litorane e culinari. Nel pomeriggio sereno su diverse aree del territorio provinciale, tra sera e notte moderatamente nuvoloso lungo la dorsale, poco nuvoloso sulle zone adriatiche, temperature stazionarie, massime compresse tra 18 e 21 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 17 e 20 gradi sulle coste, venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. Eccoci alla pagina sportiva, cominciamo con il calcio di Lega Pro, il tecnico del Teramo Vivarini carica il suo Teramo in vista del derby di domani alle 15 al Fattori contro l'Aquila. Dobbiamo assolutamente cercare il risultato addetto a tutti i costi per recuperare il più possibile il gap di partenza. Tabù derby è un aspetto a cui non presto attenzione. Veniamo da una gara in cui gli episodi ci hanno condannato, ora dobbiamo essere bravi a riprenderci i punti sul campo. Oggi dopo la rifinitura il tecnico Vivarini ha diramato la lista dei convocati, tra i convocati non ci sono per rotta, per squalifica e Calvano e Speranza infortunati. Questi sono tutti i convocati, i portieri sono Narduzzo e Tonti, i difensori Altobello, Brugaletta, Caidi, Cecchini, Dorazio, Scipioni e Vitturini, i centrocampisti Amadio, Cenciarelli di Paolo Antonio, Loreti, Palma e Paolucci, Dobbiamo chiudere bene il girone d'andata e dobbiamo recuperare il più possibile l'handicap di partenza che avevamo. Quindi di conseguenza la partita all'Aquila, oltre che un derby, ma è una partita per noi importantissima ai fini del risultato. Dobbiamo assolutamente fare risultato perché comunque veniamo da una partita in cui gli episodi ci hanno condannato e di conseguenza dobbiamo essere bravi adesso a riconquistare quello che magari non siamo stati bravi a prendere domenica. Quindi l'attenzione di questa partita e soprattutto su questo io penso poco al discorso del derby. L'Aquila è una squadra che sta avendo qualche problema, però ha dei giocatori importanti, giocatori forti, giocatori per la categoria che possono smuovere sicuramente qualsiasi equilibrio, tipo San Domenico, che noi ce lo ricordiamo anche l'anno scorso, come De Sosa. Sono giocatori che dobbiamo starci molto attenti, dobbiamo essere bravi a fare un gran lavoro di squadra e a concedere sicuramente poco spazio a loro e dobbiamo essere bravi a non farli galvanizzare. La Serie D di calcio, terzo allenamento all'alba per i giocatori del Chieti che come deciso dalla società da mercoledì hanno sostenuto tre sedute atletiche alle 6 e mezzo allo stadio Angelini, agli ordini dell'allenatore Ronci. In curva oggi si sono presentati una cinquantina di ultra che hanno esortato i giocatori con cori e striccioni a dare il massimo in campo. Anche la dirigenza ha gradito la presenza dei tifosi e sulla pagina Facebook li ha ringraziati. Il basket è vietata la vendita dei biglietti ai tifosi della Proger Chieti per il derby di domenica contro la McEnergy Roseto. La comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina dal prefetto di Teramo e c'è la nota congiunta di Roseto e Chieti Basket. Ora basta, le due società esprimono unite e il loro rammarico per la decisione della prefettura di Teramo. Le due società prendono atto e rispettano le prescrizioni ordinate ma hanno comunque tutto il diritto di non essere d'accordo, scrivono le società del Roseto Basket e del Chieti Basket. Hanno il diritto di dire che lo sport anche oggi ha perso. Perdono i tifosi di Chieti che dovranno privarsi di una manifestazione sportiva della propria squadra del cuore in una delle poche trasferte vicine di questo campionato. Perdono i tifosi rosetani che nemmeno domenica potranno vedere il Palamaggetti pieno perché l'intero settore ospiti sarà vuoto. Perdono le due società che dovranno rinunciare ai rispettivi incassi. Presumibilmente anche ai rosetani poi sarà negato il derby di ritorno. Ed è tornata a vincere ieri la Mecchenergy Roseto che dopo un primo quarto difficile ha travolto l'euro promotion legnano con il risultato di 185 conquistando così il terzo successo stagionale ma ormai si è tutti proiettati al derby di domenica prossima tra Roseto e Chieti. Sempre il basket tempo di derby anche per la Globo Info Service Campli domenica prossima domenica 15 i ragazzi di Cocce Millina sono chiamati ad affrontare in trasferta la Wear Ortona Basket squadra che appaia il Campli a quota 10 in classifica. La palestra di via Giovanni XXIII di Ortona il fischio d'inizio è fissato per le ore 18. Intanto la società farnese che milita in Serie B ha ufficializzato una nuova partnership medico-sanitaria con il gruppo Radio Sanit di Roseto. C'è voglia di riscatto in casa Basket Teramo siamo alla Serie C Silver Basket Teramo 2015 dopo la sconfitta con il Termoli i biancorossi ospitano al Palace Capriano il nuovo Basket Aquilano palla 2 domenica alle 18.15 con il chiaro intento di dimostrare che il passo falso in terra molisana è stato solo un piccolo incidente di percorso. È tempo di derby nella palla a mano femminile Gommeur Team Teramo e Globo Almax Bioapta Teramo tornano a sfidarsi dopo 11 anni dall'ultima sfida tra due squadre teramani. Andiamo ad ascoltare due delle probabili protagoniste del match di domani. Vediamo. Prossima gara non c'è nulla da dire il derby. Sì, il derby che sicuramente non è una partita come tutte le altre perché il derby si sente però l'unica cosa che cercheremo sicuramente di dare spettacolo nella città e sperando comunque di vincerlo. Come si può appunto vincere questo derby? Fermando la palaria e puntando qualche vostra giocatrice? Come? Ma sicuramente dell'altra squadra non lo so sicuramente quello che faremo noi è giocare tutte insieme appunto per cercare di vincere la partita e di andare avanti per il nostro campionato. Il derby una partita a sé. Sì, si dice che è un derby però per noi questa è una partita normale questa deve essere una festa per la città anche perché comunque di noi delle due squadre si deve vincere comunque si vince per la città chi sarà sarà cerchiamo di vincere cerchiamo di fare tutto siamo tranquilli dobbiamo stare calme e giocare e fare il nostro. Sarà una gara a distanza tra te e la Vignucova? Ah no questo no non si deve parlare di questo solamente chi sarà più forte allora farà di più Ben vi ricordo che si parlerà di migranti nella puntata di questa sera di App il settimanale di approfondimento di Teleponte condotto dal direttore Roberto Almonti in studio con gli ospiti si cercherà di scattare una fotografia dell'attuazione del programma di accoglienza dell'integrazione dei problemi connessi all'arrivo di centinaia di extra comunitari non perdete dunque l'appuntamento di questa sera con App in diretta alle 21 su questi schermi potrete anche interagire con i messaggi sms domattina non vi perdete anche la prima trasmissione di Teleponte quella del mattino alle 7 in diretta prima di tutto grazie buona serata e arrivederci grazie